a tutti questo nuovo video by gatto matotto in questo nuovo video andremo a fare una cosa un po' diversa ci ritroveremo in questa foresta paurosa di notte e dovremo sopravvivere ecco questo è quello che dobbiamo fare io qui ho un cronometro fra poco partirà adesso metto intanto game mode scusate slash time set ok ora slash game mode 0 l'opzione mettiamo difficile abbiamo queste risorse adesso faccio partire il cronometro così che manca ancora niente faccio partire il nostro cronometro 3 2 1 via e vediamo per quanto tempo possiamo sopravvivere in questa avventura dovrebbero spannare i mostri a momenti qui c'è una casta bonus vediamo cosa possiamo trovare dentro si un piccone che può servirci oh del cibo interessante infatti in fondo siamo in modalità difficile cavolo giù c'è ho visto proprio di striscio ho visto purtroppo un enderman cavoli pieno di enderman il ecco qui abbiamo iniziato la nostra avventura i mostri sono arrivati s quindi buonino 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 tutto pio ma per te buonino 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 fuori che i pezzi c'è fatta ho fatto un crepe io qui che ripeto sono dato il migliore il quello che mi ha mostrato attacco colosso il cuore il cuore ha fregato anche l'armatura i fuori stupido scherzo no no il cavolo no aiuto aggiunti ok sta ritornando la vita eccolo lì con lo scheletro di merda fuori aiuto scappiamo fuori pollo tutto tutto noi uccidiamo tutti tutto un stregone cavolo farlo fuori ecco ecco non c'è neanche una porzione niente sapete che gli stregoni lanciano quelle persone quelle lì quelle porzioni lì pericolose che ti fanno perdere niente ecco quelli se ha cercato di uccidere qualche ma non c'è riuscito quella quanti polli quanto cibo sostituire questo con l'uovo con l'uovo ok ci diamo un po di polli così abbiamo risorse che spero che durerà per un po' questa guerra c'è stato avvelenato c'è stato avvelenato c'è stato avvelenato mi ha cominciato il veleno e cosa ho fame ho fame ah ho la fame ma il cavolo dai webron buttiamoci scappiamo dai creeper li odio io proprio li odio col cuore muore muore ok tengo un po' più lontano il microfono sono forse sentito un po' male ok poi ditemi se mi sentite bene nei commenti mi raccomando iscrivetevi al canale visitate il sito www.gattomatto.it io tutto attaccato gatto matto e poi 8 il numero muore 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 morite quale che sono in modalità difficile guardate mica mi ritorna la vita così guardate il cibo come mi va via sono più di vostri che mi inseguono aiuto stupide rani ho sempre dato i rani anche nella realtà morite no io credo però li odio proprio no tutti e due uccisi quei creeper niente nessun gallo è spawnato in genere spawn un gallo quando l'anno un po' l'olivolo che è cacchina netherman meglio non guardano negli occhi no tutto sto anche adesso il cibo anche il problema rimettiamo game mode come la prima ok reti si ritorna la guerra il cibo niente non vale neanche facciamo che non vale neanche per il cibo enderman scappiamo raggiungo uno zombie dobbiamo ammazzarlo assolutamente uno zombie una strega perché in sto gioco cavolo non si capisce proprio per niente oh ma ditemi poi nei commenti se è vero sta roba che la strega poi quando vive lì no l'enderman se si vede poi vi perseguito te mi sei vero eh se mi devo proprio dire qual è il mostro che mi piace di più nel senso che fa meno danno così forse è lo zombie oppure lo sole il ragno il ragno non è che ti tolga tanta vita basta che vedo cazzotti muore con una spada decente va bene con una spada di diamante però cavolo non cibo non cavolo non 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 che guerra sia non la gente ha rischiato del gioco un enderman non 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 stidioso scappiamo scappiamo o poco cibo amata qualche pollo qualche roba del genere muori ecco fame devo mangiare dai eh non non è che non trattato sto cavolo di pollo niente non sono stata un pollo che ci vuole fortuna no uno deve attirare il lì le uova del pollo ed ogni tanto dovrebbe spararne 1 sembra tregua o no niente tregua no ci sono altri sti elettri poi c'ho un mouse che fa schifo proprio non riesco per niente a mangiarlo mi parte tipo giro a destra e mi parte come un missile no no poca vita scappiamo mi devo rifugiare un attimo sottoterra così così almeno recupero un attimo la vita però allo stesso tempo poco cibo ecco devo darmi una mossa ci vuole cibo devo trovarlo i funghi non si mangiano che palle cavolo qui c'è della lava c'è in genere devo dire una cosa la lava ogni tanto attira i mostri sul serio è un'esperienza personale non è una cosa che sto dicendo a caso perché tutte le volte che gioco e vado vicino a quelle cose di lava lì che scende vedo sempre che ci sono più mostri e se lo mi da fastidio ecco andiamo a rifugiarci qua siamo al riparo forse e quant'è che siamo qui che stiamo combattendo per la sopravvivenza? 8 minuti uno stupido zombie è venuto qui a rompere meno mai che io ho le frecce muori muori e proviamo ma già sta roba dai deve dare un po' di cibo è per minute sta roba va bene che mi avvelena però se ne è un po' forse no so sta l'ora lì sto oh mamma dove è arrivato sto cavolo di zombie ma che se si è spawnato forse si è spawnato dai che mi sale la vita gli è dovuto dare un cazzotto eh quello zombie doveva avere al massimo la vita sali vita sali veloce veloce date una mossa dai poi ditemi com'è la risoluzione perché vedo molti video dove c'è una risoluzione che è orrenda ma questa sembra bella eh perché io ho fatto diversi video mi raccomando visitate il mio sito vi ripeto www.gattomatotto.it vabbè facciamo ripartire la notte ok ripartiamo in guerra fuori ieri lì odio abbastanza cos'è sono no 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 la porzione sti cavoli di poste tacyr otto addono come dei razzi cos'è lo avrò il turbo non ho mai visto un ragno col turbo cibo cibo perseguitato da uno zombie ti ucciderò muori morire morite ecco questo è plurale un po un po cazzotto era morto bene 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 aria tutto la vita lo sapete dietro la vita del la caratura prima aveva zero vita adesso da un po' di più va bene che un'armatura però cavolo sto scrittando di fame sto muovendo di tutto quello è la modalità difficile costretti su tutti i mezzi potenziati sti mostri no ho preso il creeper c'era che sopporto però dobbiamo vedere quanto risposte a vivere poi penso che usciamo a fare un'altra o no fuori se ne accorge adesso sto cavolo di i peli di però c'è uno stregone stiamo sopravvivendo da un po' di tempo fortunatamente fuori sto cavolo di mao fa schifo io comparto uno più bello carremarcia che buona dai vieni vita sali sali che si crede di essere sto zombie eh cosa vuoi morite ma zombie morite cavolo è pieno e me la do gambe me la do gambe dai che qua c'è un po' di luce vediamo se si allontano si sono la luce si provate a tornare vieni zombie vieni 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 poi scrivetemi nei commenti per favore se con la luce vengono cioè se i zombie vengono aspettate aspettate ah no invece la luce manco la caga non si qui voglio provare a salire su sto albero avvertendo ci saranno gli arcieri che mi sparano e vero non ce n'è anche pensato ah però so del cibo dai mi metto qui un attimo al riparo a mangiare un pochino di cibo mangio un pochino di cibo e poi vado di nuovo lì ad ammazzare quegli zombie schifosi mi metto tutto dura fame per 28 secondi ok si 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 bravo zombie prendimi prendimi devo togliere ecco lo scalino cos'è meno non riesco quel piccone che ho trovato fregati zombie siete fregati ah? io ho altri mezzi muore 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 non finiscono più stiscavolo di mostriciattoli coso qui provare eh non riesce a salire saluti guardate quante belle punti ho guarniato 14 di esperienzo oh ci dovete credere ma io sto mondo l'ho appena creato su se l'avete visto non mi ricordo all'inizio del video nel video no forse no mi mangio sta roba mi mangio sta roba facciamo ritornare la notte ok 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 prima o poi morirò mi vedo quante che abbiamo l'orologio 14 minuti di sopravvivenza pura morire morire si 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 tanto non mi prendete mai stupidizzata di merda morire morire no e a a a a a a a a che bello guardate quante esperienze risalgo di un secondo e chi mi torna la vita ma che è un altro posto a spavarmi sali vita sali perfetto si dai che è il massimo ok via se va in guerra non mi hanno ancora visto quegli stupidi zombie mostri del cavolo ancora un bello spider muori ragno muori mi raccomando vi ricordo visitate il mio sito www.gattomatto.it muori si siamo riusciti ad uccidere un creeper che è la cosa a cui è molto ecco vai esplodi esplodi volete si 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 cavolo gli scheletri che se tipo ti trovi davanti non riusci ad avvicinarti bene perché loro continuano a spararti aspettate che mi rifugio un attimo qui ho 17 ossi ossa eccoci muori quanto ci stai a scoccare la freccia stupido stupido scheletro ecco guarda quanti polli tutti da uccidere per ricavare muori si le uova le uova la uova così al limite riusciamo a farne qualcun altro pensate un insulverer dover fare una notte così senza niente senza niente in mano senza nessuna arma no 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 che è in me la mamma per qualche secondo guarda lo zambi microscopico che è brutto che sei anche piccolo per te qui insulta i zoppi morite strage di zoppi morite se ne è una dieta probabilmente o cos'è che la spada un uccidio con il bosco con la spada il posto ecco la lista arriva da dietro via posto che la parola posto per lo zombie ecco che ci prendiamoci per la loro carne e marcia buonissimo ecco guardate quanti bei polli tutti da uccidere andrei piuttosto a rifugiarmi un attimo per mangiare quel buon pollo eccoci qui 8 di pollo perfetto solo uno mamma mia ma è pochissimo non vuoi che mi viene la fame quando mangio un po non lo so ah mi mangio sta schifosissima carne e marcia aspettiamo 23 secondi poi dopo inizio a scendere e io mi mangio il pollo domenica democida credi no notte brai siete fortunati scheletri un po' veste presa tutti fuoco io salvati io e tanto adesso vi ammazzo ecco le dice un altro lì c'è la potenziata le fecce c'è no vabbè c'è l'armatura potenziata scusate mori c'è guarda quanti bei punti lì punti esperienza la mia oraggio di azione questo ragno ero arrivato a 20 cm e solo in quel momento si è girato verso di me perchè se ne ha accorto che ero lì pericolini sono stile scappiamo fuori e poi dicono che mai che non è un gioco violento si non è violento perchè non è che si vede il sangue un gioco molto a pixel così però alla fine cazzo lì i polli si ammazzano per fare questa cosa di minecraft andiamo da quante che stiamo sopravvivendo ah no vabbè non possiamo perchè vuole ucciderci fra un po' dovrò stupare il video si 21 minuti vabbè dai ciao a tutti al prossimo video da gatto matotto spero che vi sia piaciuto e con ben 21 minuti di sopravvivenza e 42 quindi quasi quasi molto quasi 22 minuti di sopravvivenza coi creeper al prossimo video visitate il mio sito gattomatotto.it ciao a tutti al prossimo video da gatto matotto ciao a tutti ciao